Signori miei benvenuti, ben ritrovati in un nuovo episodio della SBL, io lo so che nell'ultimo episodio vi ho lasciato tante tante domande, ma oggi devo presentarvi, ma com'è Ben Wallace? Ah, minchia, ok, scusatemi, devo presentarvi due nuove squadre che entrano nella SBL, perché sono arrivati i primi anni 2000, cominciano ad arrivare i social, cominciano nuove possibilità di sviluppo, ed è appunto di espansione della nostra Basketball League, e allora sono arrivati i Phantoms di Pittsburgh, per quanto riguarda la E-Circonference, che vanno a soppiantare, diciamo così, i Charlotte Bobcats, che non sono quelli reali, ma resistono quelli nostri, della nostra SBL, mentre a Ovest siamo un vent'anni avanti, più o meno, perché le voci sembrano arrivare tra qualche anno, i Las Vegas qualcosa, noi li abbiamo chiamati Las Vegas Venom. Adesso andiamo a vedere il Draft NBA 2004, tra parentesi 2000, poi vi faccio il recappone dei roster, non vi preoccupate, mi raccomando, continuiamo con il supporto alla serie, e mentre faccio il recappone vi do qualche risposta a quello che è successo nell'ultimo episodio, perché anch'io sono rimasto così, no? Ecco, quindi, Yao Ming viene preso alla 1 ai Denver Rockies, che hanno vinto il nostro torneo di qualificazione, che non vi ho fatto vedere perché c'era la cosa delle espansioni di squadra da fare, e perdonatemi, gli Utah Range alla 2 vanno a scegliere Tation Prince, alla 3 i Philadelphia Rebels, che avevano fatto uno dei peggiori record della Lega, comunque si ritrovano con Amare Stademaier, che comunque, alla 3, mi sembra un buon affare, alla 4 i Miami Cyclones portano a casa Caron Butler, alla 5 Jay Williams tra l'Arizona Phoenix, vediamo se le nuove squadre scelgono, Mike Dunleavy alla 6, di nuovo i Rockies tra l'altro alla 7 con John Salmons, la prima 3 di questo draft arriva alla 8, assieme a Jay Denardi per Mitch e Robinson è una prima futura, mmm, mmm, gli Utah Range vanno per un rebuild completo, andando a scegliere The One Wagner, bah! Altra trade piuttosto importante, la 10 di Seattle è stata scambiata per Tyson Chandler, che dovrebbe avere una certa, però comunque dovrebbe essere ancora un ottimo centro titolare, e i Generals al posto suo vanno a prendere Nenea Ilario. Eccoli qua, i Las Vegas Venom, alla 28 che vanno a scegliere Rian Humphrey, vabbè, lasciate stare il giocatore, per farvi vedere i loghi, li vedete qua a destra, dei Las Vegas Venom e dei Pittsburgh Phantoms. Prima però ovviamente scopriamo quale sarà il prossimo draft che entrerà nella SBL, a quanto pare è il 2017. Eccoci ragazzi pronti per la nuova stagione, le nuove stagioni di questo episodio, 2004 è l'anno, io vi faccio notare questo perché è importante, ricordatelo per quello che sto per dire, vi lascio dare un'occhiata ai roster, mettete in pausa quando volete vedere una squadra, o quando volete vedere con attenzione delle cose, ci sono delle squadre davvero, davvero interessanti, ma quello che vi voglio dire io è cosa è successo nell'ultimo episodio, perché nell'ultimo episodio neanch'io vi ho dato una spiegazione proprio perché vi volevo lasciare speculare nei commenti e così è stato nel bene o nel male e ho apprezzato tutti i commenti che avete lasciato, continuate, supporto, iscrizioni, mi piace, commenti, tutto quanto, cosa è successo alla situazione con B. Bryant. Dall'ultimo episodio ovviamente niente, io avevo citato un infortunio sbagliando perché neanch'io avevo la piena coscienza di quello che stava succedendo, questo perché non è stato un infortunio, è stato un allontanamento dal basket giocato. Vi ripeto, l'anno è importante, capitela voi la citazione, si è dovuto prendere due anni per ora di allontanamento dal basket giocato, per motivi, diciamo così, legali e ovviamente anche fisici e mentali. La sua carriera è finita? Assolutamente no, anzi, e su questa frase me la ricordo che l'ho detta e l'ho detta giusta, anche se parlavo, menzionavo un infortunio, se c'è uno che può tornare ad altissimi livelli da una cosa del genere è proprio il Mamba con la Mamba Mentality. So bene che questo andrà a inficiare questa pausa sui record suoi di carriera all time in generale che poi verso la fine o alla fine andremo a vedere per vedere cosa è successo in questo multiverso, ma questa vuole essere dal principio una serie what if e la citazione ai 2-3 anni di pausa e a quello che è successo attorno ai primi anni 2000 al buon Kobe valevano la pena, secondo me, sviluppare questa timeline alternativa. È una serie what if, ripeto, cioè va presa così com'è. Vedremo se riuscirà quando e se riuscirà a tornare come Dio comanda a guidare questa SBL. Anche perché ci sono altre squadre che nel frattempo si sono affacciate al trono della nostra Lega, no? Abbiamo avuto gli Zephyrs di Steph e Clay Thompson, gli Askis di Traian che già si è andato a Teto Cupo, ma anche gli Houston Voyagers che abbiamo visto poco fa di Doncic, quindi insomma le squadre sono tante e signori io vi ricordo che mancherebbe ancora Mr. Michael Jordan da draftare in questa SBL. Il suo draft non esce, lo attendiamo, non mancano tantissime stagioni, quindi prima o poi sicuramente arriverà il buon MJ, però ecco sì, voglio dire, dobbiamo affrontare anche questo discorso MJ, prima o poi sicuramente. Eccoli quelli Sherlock Bobcats che vi dicevo prima sono rimasti nella nostra Lega, perché lo erano già entrati quando sono entrati i Charlotte Hornets, diciamo, nella realtà. Qui abbiamo tutte le squadre di espansione, gli Orlando Maggi che anche sono una squadra molto molto interessante, anche se l'età comunque, vedete, comincia a essere piuttosto avanzata. I Minnesota Evergreens, i campioni in carica con la coppia, a Teto Cupo, 38enne, Traian, l'Uol Deng, Ben Gordo e Vincenzino Esposito, 82 di overall. Abbiamo i Vancouver Blizzard e poi eccole qua le due nuove squadre, che vi dirò, Las Vegas, per essere una squadra appena arrivata, si è presa Ben Wallace, Brandon Roy, Kevin Knox e Mo Williams, 480+, ho visto sicuramente di peggio. E questi invece sono i Phantoms, che comunque anche loro, 480+, è vero, un po' più vecchi e con un po' meno overall, però comunque, però comunque due squadre interessanti fin da subito. Questo è il Power Ranking per la stagione 2004-2005, cominciamo, la razza Fenix e Phantom sono qui sotto, Las Vegas effettivamente, come è giusto che sia un po' più su nel Power Ranking. I campioni in carica non li vedo, sono appena dodicesimi, beh, vediamo che succede, dai. Qualche trade alla trade, è dal niente di che, direi un Desmond Bain per Jalen Williams. Diciamo che è interessante questa, perché Desmond Bain va a giocare con Lebron e gli altri, Michel Robinson e bla bla bla, però Desmond Bain non è che abbia questo overall incredibile, quindi sì, insomma, trade secondo me è di poco conto, vediamo. Signori, potremmo avere un All-Star Game in volata, i circumference di Steph in possesso palla in vantaggio, 112 a 111, io ho solo una cosa da descrivere, quello che è successo a metà stagione, is bad, non penso di dover raggiungere altro, Steph contro Harden, scarico per Kanigan, finta, bruttissima conclusione presa dalla Easter Conference, rimbalzo però, rimbalzone di Chris Bosch che preferisce darla fuori, vabbè, ci sta per mangiare un po' di tempo, Ovest che decide di non fare fallo, quindi vedete, Eiton, Don, Cic, Carmelo non rientreranno sul parcheggio di gioco, devono arrangiarsi in difesa, ma immagino entrino più che altro per l'attacco, vediamo se Steph la chiude dopo il pick and roll, palla per Chris Bosch, c'è il suo tiro dalla mia distanza, dentro fuori sbaglia, timeout, 5 secondi e 9 da giocare, c'è Jason Kidd, oltre che Don, ci c'è gli altri, è rimasto Wade per la Easter, Conferes, Carmelo, non è la Easter, è la Western, Carmelo, Anthony, sempre lui, sempre lui, lo voglio nei commenti, scritto, Carmelo, con la tripla del più due, madonna mia, che non era neanche un bel tiro, tra l'altro, c'è ancora mezzo secondo, in realtà, per la, per la Eastern, per provare a inventare qualcosa, per il controsorpasso, e quindi la vittoria, no, 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 è Chris Bosch, amore mio, mezzo secondo, direi proprio di no, e allora, bomba di Carmelo, per la vittoria della Western Conference, Carmelo che in realtà, non aveva giocato, chissà quale partita, fino a quella tripla finale, diamo lo stesso, la MVP a Don, c'è anche, se no non ne abbiamo visto fare niente, ma 25-5-4, direi, MVP dello Star Game, a fine stagione, James Harden, l'NVP, prima volta nella sua carriera, alla, non a stagione, nel suo prime, a 28 anni, ha già vinto un titolo NBA, ma questa volta diventa, anche MVP, con 28 punti, 5 rimbalzi, 8 assist di media, beh, per il prime James Harden, neanche delle medie incredibili, però comunque, bravo lui, MVP, Yao Ming, come da previsione, è la matrica dell'anno, 14 punti, 7 rimbalzi, un assist, già l'endura, nel sesto uomo dell'anno, agli Zephyrs, attenzione anche a loro, come dicevo prima, LeBron James, il defensive player, tra l'altro, 26-8-8, due recuperi, una stoppata e mezza, la Madonna, col 41-3, che stagione della Madonna, la cosa meno impressionante, l'83% ai tri liberi, Austin Crochier, il giocatore più migliorato, come sempre, lo dico sempre, nelle squadre di espansione, vincono sempre il MIP, perché hanno tanti più minuti rispetto a dove giocavano prima, però comunque, 18-10 praticamente di media, tanta roba per lui, e Michael Odom, chiunque egli sia, 65-17, il coach dei Vancouver Blizzard, che sono carichissimi per questa postseason, James Harden, ovviamente, Jason Kidd, LeBron James, Chris Bosh, e Dwight Howard, i membri del primo quintetto, All SBL, Nash Curry, Duncan, Don Cicci, Hayton, il secondo, e Shy, che però è infortunato, distorsione grave alla caviglia destra, Dwayne Wade, Paolo Banchero, Grant Hill, e Andrea Barniani, che comunque, a 25 anni, lo zampino ce lo mette. Per quanto riguarda il primo difensivo, abbiamo Chet Holger, Devin Vessel, LeBron James, Jason Kidd, Edwin Wade. Chiudiamo il quintetto matricole, ovviamente, Rookie of the Year, Stademar, J. Williams, Darius Garland. E si è stato fuori tutta la stagione l'anno scorso, a questo punto, perché, che cazzo c'entra? Mi sembra che non c'entri proprio per niente. C'è qua il quadra che non cosa, qui. Potrebbe essere che l'aveva draftato l'anno prima, ed è stato fuori tutto l'anno alla Blake Griffin, a Chet Holgram, tipo, la voglio interpretare così, perché la vera interpretazione è che è qualcosa di baggato, ma noi vogliamo interpretarla, queste storyline della SBL, infortunio da Out for the Season nella prima stagione, Garland diventa Rookie quest'anno, nel 2004-2005. James Harden oltre ad essere l'MVP, è anche il capo classifica di Lega per punti, 28,3, poi staccati, LeBron e Key da 26, Nash, Steph Curry, Bosch e praticamente anche Grant Hill a 25 e più. Team Duncan è primo per rimbalzi 12,3, poi c'è Dominaton, che comunque è 21-12, eh? Dominaton. 12 rimbalzi, 12 anche praticamente due Tower, 11 per CZ Chat, e quasi a 11 Zidrunas, Ben Wallace e Evan Mobley. La Madonna, 11 assist di media per Reggio Rondo, 9,5 per Kid e Rubio, e David Harris, e poi sopra i 9, Shy, Curry e Steve Nash. Recuperi, Kid è primo, poi Rondo, Marbury e LeBron James, tutti sopra i due, praticamente anche Wade. Stoppate, ci sono tante sopra i due, addirittura due e mezzo, Jaren Jackson, 2-2 Duncan, 2-1 Howard, e poi due Jackson Hayes, Walker Kessler, e c'è Tom Graham. E noto ora, che la coppia dei lunghi, dei Rockies, è Team Duncan Yao Ming, con Carmelo Anthony, minchia, hanno età un po' diverse, però minchia. E nonostante ciò, non hanno fatto i playoff, per una singola partita, e guardate chi è tornato ai playoff, guarda caso, erano 18-20, quando il Mamba cleared waves, come si dice, per tornare sul parquet di gioco, e poi il record è dato, 45-37, riusciranno a riprendere dove avevano finito un paio di anni fa? Difficile in questa stagione, magari dalla prossima. Vancouver, miglior record della Lega, 65 vittorie, ma Chicago ne ha fatte comunque 63, quindi occhio. Questo è il tabellone dei playoff, vediamo cosa succede. Succede che il Magu Barniani sta rischiando di mandare a casa gli Orlando Magic, gara 7-40, secondi da giocare, deve in arresto in isolamento contro Kate Cunningham, palesemente uscito dal campo. Bah! mi sembrava uscito di mezzo metro dal campo, più 3 per gli Eclipse, che tornano ai fasti dei playoff dopo gli anni felici di Magic Johnson, grande difesa di Barniani. Vediamo se viene ripassata la palla per il mismatch, no, si va da Darren Collison, grandissima palla sotto per Zidrunas il Gauskas, anche lui All-Star, così come Kate Cunningham, meno 1 Orlando Magic. 2 su 2 liberi David Harris, nuovo più 3, situazione identica a quella precedente, Cunningham si va a prendere il tiro da 2, che scelta sarebbe questa esattamente? Brutta, brutta questa scelta, e Jabari Smith può con questi 2 3 liberi chiudere partita e serie, visto che si parla di una gara 7, buono il primo e già basterebbe Barniani con la 34 di Sheck, Gas, e buono anche il secondo. Tanti saluti agli Orlando Magic, direi, vediamo se si inventano una tripla pazza adesso, beh, in realtà hanno preso un ottimo tiro con Mike Miller, lo sbagliano, e allora, ufficialmente finita. Altro finale in volata, i Mariachis in gara 7, devono battere i Minnesota Evergreens, c'è Zeebo col tiro della Ciconia dall'angolo, Zeebo, che canestro, 10 punti e 9 rimbalzi per lui, sceglie di arrivare in doppia cifra nel momento migliore, tra l'altro, guardate, c'è Paul George in campo dall'altra parte, Zeebo difende e prende rimbalzi, assoluto protagonista di questo finale di partita Paul George, che è andato via dagli, dai, dagli stacks di Milwaukee dopo tanti anni e tanti successi, Piccarol per Sean Livingston, si va sotto di nuovo da Zeebo, di nuovo un uno contro uno, di nuovo praticamente lo stesso movimento, ancora lui sbaglia il gancio sinistro questa volta, allora c'è tempo per Kenny Anderson e soprattutto Jalen Green, che è assolutamente la stella della squadra, vediamo se si prenderà lui l'ultimo tiro, è marcato da un ottimo difensore come Paul George, no, e Kenny Anderson per la tripla, che vale il più uno, Minnesota, prova la steal in trasferta, 110 a 109, c'è anche Zion come vedete, vediamo se sarà lui a provare l'ultima conclusione del match, PGDAC era a fare la rimessa, Jamir Nelson forse prenderà il pallone, no, mi sa che l'indiziato e Tresime Grady, ma che playoff sono, che playoff sono, T-Mac, con la bomba per la vittoria, oh mio Dio, dopo lo Stargame, dopo la prima gara a 7, bomba sulla sirena per passare il turno di T-Mac, tra l'altro questi mariachis, vorrei dire, Zion, Paul George, T-Mac, e dice zitti tutti, dice zitti tutti T-Mac, Zeebo, adesso le età sono un po' difficili da seguire in questo multiverso in cui i draft sono comandati da una ruota, però, comunque, che nome in questa squadra, la madonna, l'unica gara a 7 che non ci ha regalato emozioni è quella dei Sacramento Redwoods che vanno a fare il colpaccio in quel di Houston buttando fuori Luca Doncic, 108 a 90, Steve Nash gli ha fatto un buco di culo, per dirla proprio come deve essere, clamoroso, 38 punti e 9 assist in gara a 7 e quindi Siatoli incredibilmente che ha battuto già Los Angeles si trova addirittura col fattore campo al secondo turno, potrebbe già, nonostante Kobe abbia giocato bene o male 50 partite, potrebbe già tornare alle finali di conference. Secondo turno di P-Off che ci regala tantissime sorprese, innanzitutto avremo un nuovo campione della SBL perché i Toronto Aski sono stati battuti dai Milwaukee Stacks che non sentono la mancanza di Paul George con Regio Rondo e Dwight Howard, la coppia giovane interessantissima assieme a Maturin vanno a sconfiggere appunto i campioni in carica e Chicago Zephyrs non soffrono particolarmente contro gli eclipse di Barniani e di qua e il passo in gara 7 batte la miglior squadra della Lega Arden 24 però 9 su 26 dal campo in gara 7 Zion 23 Magrady 17 Magrady ha 20 anni Zion ha 20 anni Germain O'Neill ne ha 30 Zibo ne ha 38 ecco qual è quello vecchio e anche Paul George ne ha addirittura 40 la madonna ok però Magrady Zion Williamson potrebbe essere una coppia molto interessante per il futuro tant'è che sono già le finali di conference contro i Seattle e i Supersonics che hanno vinto in gara 7 con due super partite di Sexton e di Kobe e questa sfida Kobe contro Magrady wow uno nel prime uno molto giovane ma molto interessante vediamo come va a finire abbiamo un finale in volata per quanto riguarda la Easter Conference gara 7 sul parquet degli Zephy salto tryout chiamato da Milwaukee meno 325 a 128 punteggi astronomici vediamo chi è che si prende la responsabilità degli Stags sembra Maturin che poi però si incastra un po' bella palla per Rondo anche lui ben marcato grande difesa degli Zephy spalla fuori di nuovo per Maturin Matt Barnes vediamo se si va sotto da Robert Williams che è il centro di riserva di Dwight Tower che forse fuori per falli a questo punto Rondo costretto a prendersi una tripla difficilissima Wendelkartel vola a rimbalzo non fanno subito fallo lo fanno però su Jalen Johnson che scusatemi su James Johnson che non mi risulta sia un eccezionale tiratore di tiri liberi considerando che c'è in campo Klay Thompson non una grandissima scelta buono il primo e potrebbe già bastare in realtà visto il più 4 buono anche il secondo finiti i time out perché ne hanno buttato uno prima del cesso e allora direi i Zephy tornano alle SBL Finals Steph e Klay pronti per provare a portare a casa un altro titolo ma contro chi? contro gli El Passo Mariacis che ritornano se non ricordo male alle NBA Finals sbattendo i Seattle Supersonics che con cuore e onore arrivano fino alle fine di conference nella metà stagione in cui Kobe è tornato dopo due anni e mezzo di assenza ma i Mariacis di Zion e di Magredi sono già pronti forse per vincere il titolo e ragazzi l'esperienza degli Zephyrs ha la meglio sui sui Mariacis 135 a 127 mi sa che potrebbe essere il punteggio finale queste gara 6 eravamo due pari serie molto equilibrata i Zephyrs vincono in casa gara 5 e poi vanno a vincere in trasferta gara 6 quello che fanno le squadre forti di solito nei playoff è Kerry e Clay Thompson e in realtà tutti gli altri cosa c'entra Gianni Nelson non lo so perché questo nucleo è quello che ha vinto due stagioni fa non c'è più Sharif Abdu'Rahim ma tornano sulla vetta della SBL tanto onore comunque ai Mariacis che sono arrivati qui facendo delle vere proprie imprese come quella del primo turno di playoff c'era dell'esperienza in Paul George e Zeebo ma non abbastanza nei ruoli fondamentali della squadra ovvero nei giocatori fondamentali della squadra ovvero Zion e McGrady ma ci sta fa parte del processo eccoli qua che alzano il titolo assieme a Jalen Duren Welder Carter Jr Jalen Duren che ha vinto il MIP se non sbaglio il Sisman of the Year era forse e Kerry vince il suo primo MVP delle Finals con la 25 che è il River che è di sì wow 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 gli Zephyrs di Chicago secondo titolo in 3-4 stagioni un ciclo molto molto importante beh Steph chiude con 27-10 assist di media a queste Finals direi insomma ci mancherebbe altro che non vinca la MVP introduciamo la nuova stagione col nostro Chase for the first pick e come vedete è cambiato non ci sono più le test di serie ma anche Pittsburgh per dire deve andare a giocarsi la partita dall'inizio perché sono aumentate le squadre nella Lega e questo lo trovo sbagliato perché non trovo giusto che al primo turno la squadra che ha fatto 19 vittorie da una parte e addirittura sì 19 dall'altra debba andare a scontrarsi con quelle contro 41 vittorie avendo aumentato le squadre mi piace decisamente meno questo torneo l'avevamo un po' aggiustato facendo sì che contasse praticamente solo le semifinali e le finali poi per le scelte effettive però per le squadre peggiori della Lega voleva dire vincere una partita per poi essere tra le migliori quattro scelte non una cosa assolutamente impossibile qui vuol dire andare a vincere due partite ma soprattutto la prima contro una squadra che ha mancato i playoff per una due partite forse zero solo per differenza per sconti diretti quindi che ne dite ragazzi rimettiamo la lottery a questo punto potrebbe essere il caso per adesso giochiamoci giochiamoci viviamo assieme questo torneo ma credo sia il momento di mettere la lottery in realtà poi Pittsburgh alla fine ha rischiato il miracolo arrivando in semifinale alla finalissima del torneo accedono i Philadelphia Rebels e i Portland tra i Blazers signori abbiamo un finale di volata anche nel torneo 107 pari Archie Barrett per la tripla del vantaggio dentro fuori sfortunatissima allora Voshon Leonard no in realtà non è Leonard ma è Leonard scusatemi palla per Iverson mi sembra in mani sicure c'è il sud di lui Walker Kessler dovrebbe attaccarlo invece no grandissimo assist pessima difesa altro dentro fuori io vi faccio vedere anche quante vi faccio notare anzi quante poche persone ci sono a vedere rispetto per dire l'NBA Finals per il torneo del Chase for the first pick che ci sta a senso vediamo con questo tiro cosa si decide come si decide la prima scelta assoluta al draft non c'è più John Wall ovviamente nei porti del tre base c'è Iverson che marca Walker Kessler giustissima la scelta ma è un altro dentro fuori forse poteva andare un po' più in avvicinamento il buon Walkerone Iverson se la cava in una maniera o nell'altra e adesso dall'altra parte forse si meriterebbe il tiro per la vittoria per la prima scelta assoluta anche se in realtà a 30 e passa anni potrebbe anche interessargli giusto al buon Iverson vediamo se danno a lui il pallone si non prende il processino prende la tripla e vabbè e vabbè che cos'è questo episodio ma che cos'è questo episodio di Enswer non proprio col suo marchio di fabbrica la tripla in faccia a Walker Kessler che non salta ma alza le mani lo contrasta e Iverson chiude in bellezza il torneo esultano giustamente i Rebels soprattutto direi lo staff cioè i manager e quant'altro esultano più che i giocatori 110 a 107 Philadelphia batte Portland io non so cosa sta succedendo in questo episodio ho mai visto così tanti game winner o comunque canestre decisivi in un'unica registrazione comunque Paul George è ritirato ed è andato dritto dritto nella Hall of Fame direi 1600 partite giocate praticamente 20 punti di media e una volta campione NBA e una volta MVP delle Finals ma le ritirate per loro due così come per Turcock e James Wiseman che però non sono andati nella Hall of Fame vediamolo allora proprio il draft 2005 che in realtà è il 2017 e quindi i Philadelphia Rebels alla numero 1 per merito di Allen Iverson prendono il suo sostituto bello bello ripagare così il giocatore che ti ha regalato la prima prendere il suo sostituto giovane daglie no in realtà Iverson sarà una guardia quindi probabilmente non è sì è il suo sostituto ma diciamo che non gli va propriamente a rubare il posto visto che come vedete Playmaker listato Playmaker Marchello Fulz ci sta averlo preso la 1 sempre che non abbia problemi di infortuni come in realtà ma questo è un multiverso non lo sappiamo i porti del Trailblazers alla 2 per Jason Tatum per aver perso il torneo non mi sembra un brutto regalo il buon Tatum vediamo se riuscirà ad avere raggiungere i livelli di John Wall e portare i Blazers di nuovo ad altissimo livello nella SPL i Phantoms di Pittsburgh vanno a scegliere no vanno a tradare la loro numero 3 per Marcus Camby minchia 90 di overall dovrebbe avere una certa Marcus Camby è una prima futura beh e i Generals vanno a scegliere Donovan Mitchell beh mi sembra una win-win questo un 90 di overall per una 3 mi sembra sinceramente più che sensata per entrambi questa trade i Las Vegas Venom poi alla 4 vanno a scegliere Laurie Markkanen ok alla 5 l'Arizona Phoenix Malik Monk Detroit prende Luke Kennard che è stato scelto a Detroit anche nella realtà se non ricordo male Washington prende Bama De Baio alla 7 buon affare la squadra di Lebron alla 8 porta a casa Lonzo Ball interessante anche questo accoppiamento i Bobcats prendono D'Aaron Fox alla 9 e alla 10 Josh Jackson draft abbastanza interessante questo qui alla 11 i Cyclones prendono Dennis B. Junior che magari senza Donchic davanti diventa anche un buonissimo giocatore Zach Collis agli Spurs come nella realtà San Diego prende Jared Allen alla 13 grande roba e chiudiamo no la lotta in realtà è a 16 adesso che ci sono più squadre o a 15 forse Jonathan Isaac alla 14 e Josh Hart il nuovo dei Boston Beacons alla 15 anche se gli overall sono quelli che sono comunque la 16 e la 17 sono andati via a Nunobi e John Collins ai Monsters e ai Rockies questa è la free agency dell'estate 2005 ci sono pochi giovani a parte Dwight Howard quindi questi sono tutti i reali free agent che potrebbero cambiare squadra compreso Giannis 39enne che non sarà più super allettante diciamo così dal punto di vista dell'overall però comunque ha tanta esperienza da titolo e qualcosa può dare ancora tantissimi rinnovi Dwight Howard Bugley Wagner Ricky Rubio Terry Kevans Mamba Mamba Bamba De Rosan Devin Harris tantissimi tantissimi rinnovi Guodala anche Monsters Kyle Lowry ecco e uno e Girole Dave sono i due che hanno cambiato squadra tra l'altro attenzione Magredi Playmaker che cazzo ok cosa stanno cucinando i Mariachis ah ma no è il roster della Summer League questo scusatemi ok Girole Dave va a giocare ai Mariachis Giannis attento Kumpov uuuuh attenzione Let De Mariachis Cook che stanno combinando aia Colleen Sexton se ne va da Seattle e va a giocare a Detroit aiaiaiaiaiai pensavo potesse essere la Revenge Season dei Supersonics forse Colleen non l'ha presa il buon Colleen non l'ha presa bene che Kobe sia tornato e lui da subito è stato buh via spostato da primo violino e rimesso a seguire gli ordini del Mamba beh che cosa buona e giusta però eh Gianniso Chan va a giocare con Lebron Valanciunas firma ai Miami Cyclos di Anthony Edwards e prima di continuare ovviamente un momento ruota che ci dirà i prossimi giovani che arrivano nella NBA il draft sarà quello 1992 torniamo a fare un tuffo nel passato pronti allora per questa nuova stagione la squadra di Lebron torna sulla vetta del power ranking il passo Mariachi sono sempre qui in quarta posizione dopo gli acquisti dell'estate i campioni in carica sono crollati al ventunesimo posto madonna mia quest'anno si sono mosse molto di più le squadre c'è stato Tristan Thompson scambiato per Godsham God è una prima futura attenzione che adesso le prime future già ci ricordano molto più quelle reali visto che è tornata la lotteria anche Michael Bridge è stato scambiato dai checkers per un pacchetto a noi sconosciuto chissà se mai si stemmeranno questa cosa nel futuro Kuminga anche draftato dai draftato tradato dai motors al Utah Range squadra che sia i motors li abbiamo visti qualche volta aiuta range in tutta questa simulazione praticamente mai vista ad alti livelli anche i mariachi si hanno fatto una trade che sono una delle squadre più forti della Lega a fine stagione abbiamo di nuovo James Harden MVP con quasi 30 punti di media 29,3 9 assi 5 rimbazzi 1 recupero e 1 stoppata Harden sta dominando il regular season poi Blizzard dai playoff si sono arrivati in fondo ma non sono costanti ecco diciamo Market Foods è la matricola dell'anno quindi bravi i Rebels averlo preso alla 1 Darius Garland il sesto uomo dell'anno non più rookie spero Tim Duncan alla quarta pensavo terza quarta stagione NBA intanto mette già a referto 23 punti e mezzo 14 rimbalzi e 2 stoppate ed è Defensive Player of the Year Goga Bitazze il most improved boh e il coach dei mariachis e il coach 68 vittorie per loro primo quintetto l'NBA che vede Andrea Bagnani ragazzi wow 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 il vago primo quintetto l'NBA New York Eclipse con Chris Bosh Tim Duncan Steve Nash e James Harden poi Kid Shy Doncic Carmelo e Diandre Leighton ma Lebron ah sai che ah no 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 si è infortunato Lebron e non ha giocato abbastanza partite perché qui abbiamo le 65 partite Lebron non ha giocato abbastanza partite difatti non è neanche nel primo difensivo che vede Wade Kid Duncan Bosh e Chet per fortuna non c'è Garna nel primo matricola ma ci sono Adebayo Fox Lonzo Tatum e Fultz e proprio per quell'infortunio i Boston Bicos non hanno fatto i playoff per scontri diretti contro Indianapolis Checkers 44 vittorie e non fare i playoff è una roba abbastanza incredibile i Chicago Zephyr si confermano come prima forza della Easter Conference mentre i Mariachi e i Blizzards come forza in generale dell'NBA e in particolare della Western Conference ragazzi purtroppo io provo a creare delle storyline o poi sta la simulazione renderle vere o meno e io mi adatto a quello che decide la simulazione di NBA 2K e i Seattle Super Sonic senza Colin Sexton che se n'è andato stufo e arrabbiato per essere stato scartato una volta tornato Kobe come vedete la squadra è quella che è e il risultato è quello che è Kobe non è riuscito nella Michael Jordanata per ora post sospensione barra ritiro barra allontanamento chiamatelo come vi pare questo che vedete è il tabellone dei playoff vediamo come va a finire vediamo se ci saranno altre grandi sorprese come fino adesso in questo episodio due gare sette al primo turno che non ci hanno regalato grandi emozioni ma Barniani ce ne ha regalata sicuramente una perché da settimo seed il mago primo quintetto dell'NBA ve lo ricordo chiude in cinque gare il secondo seed della Easter Conference e invece a ovest i Donchic i Donchic si va bene gli Houston Voyagers di Donchic si prendono la vendetta sulla sconfitta dell'anno scorso e vanno al secondo turno dove però incontreranno Vancouver ragazzi sta succedendo l'impossibile gli Eclipse battono anche Miluocchi 4 a 2 Barniani da primo violino alle finali di conference 28-11-6 per chiudere la serie ovviamente assieme a Jabari Smith a Devin Harris a Koeleonard a Demar De Rosam per l'amor di Dio certo però però Barniani da primo violino e di qua Mariacis battono facilmente in gara 7 Sacramento e mi dà l'impressione che chiunque esca da questa finale di conference a Ovest vada a rullare quelli a Est cioè la vera Finals NBA mi sembrano queste ma magari mi sbaglio e attenzione vediamo che succede questo episodio pieno ricco ricco di emozioni ferma subito tutto perché Barniani ha vinto le prime due partite in trasferta facendo 27-13-6 la prima e 21-17-15 la seconda contro i Zephyrs io non so più cosa sia reale stiamo un po' tutti tifando non tanto per gli Eclipse quanto per il Mago in questo momento diciamoci la verità lasciamo un mi piace per questa run pazza del Mago ebbene sì abbiamo le Finals del Mago 4-2 dall'altra parte per il passo e qui però il problema è che adesso veramente capite che squadra hanno questi Giuro Holiday Tracy McGrady attento cupo quarantenne Zion e Germain O'Neal per non parlare di Greg Anthony dalla panca dall'altra parte ok il Mago ok Javari Smith i nomi sono importanti ma l'overall è decisamente inferiore la panchina è migliore vediamo eh da settimo seed magari New York fa il miracolo io non so più cosa aspettarmi alla fine in questo episodio purtroppo avevo ragione ragazzi purtroppo avevo ragione il Mago i suoi Eclipse hanno vinto gara 2 in trasferta e poi però purtroppo purtroppo sono andati a perdere le altre partite e finisce qui 132 a 99 gara 5 4 a 1 per i Mariacis che si vendicano dall'anno scorso ma avevano tirato su anzi hanno tirato su una squadra completamente insensata avendo firmato in estate anche Giannis che si va vincere il suo terzo o quarto titolo NBA e attenzione Giannis comunque è uno dei grandi grandissimi volti della nostra Sweet Basketball League finisce qui complimenti ci abbiamo creduto tutti abbiamo sognato assieme al Mago in questo episodio ma non basta chiamarsi Mago per battere questa squadra incredibile ed è una delle poche squadre di espansione ad aver vinto il titolo in questa nostra SBL tra l'altro non sono entrati nella Lega tanti tanti episodi fa ma sono stati loro sono stati molto bravi perché da subito effettivamente competitivi se vi ricordate tipo alla terza stagione nella Lega avevano già fatto le Finals perdendole e finalmente adesso riescono a vendicarsi e a vincere il titolo voglio dire e attenzione perché ok che Giannis ha 40 anni ok che Germain O'Neill non è giovanissimo però il resto della squadra è clamoroso e potrebbe diventare una dinastia Zion a 21 anni 22 forse sembra aver vinto il suo primo titolo di MVP delle Finals ebbene sì e le cifre fanno paura 35 punti di media 10 assist tra rimbalzi e 6 col 71% nel campo vedi quando gli viene chiesto tirare da 3 nel 2005 2006 0% ma domina ugualmente ma facciamo comunque un plauso per cortesia a Barniani che alle Finals ha viaggiato a 21 punti 9 rimbalzi 5 assist un recupero una stoppata e mezza di media tanto cuore comunque per il mago e io vi dico la verità mi sta bene fare solo due stagioni perché è successo la qualsiasi in queste due stagioni la qualsiasi game winner allo star game game winner ai playoff game winner al torneo run pazze ai playoff storie che si intrecciano squadre assurde veramente è successa la qualsiasi ci vediamo la prossima settimana con il nuovo episodio della sbl in cui rintrodurremo la lottery ma fatemi sapere la vostra nei commenti vi ringrazio come sempre per il supporto e per la compagnia che ci diamo a vicenda mi trovate come sempre le sere in live in descrizione c'è anche la serie di wwe c'è stato il gameplay esclusivo di top spin arriverà la serie anche su quello insomma tante novità nel prossimo futuro vi ringrazio e alla prossima ciao boys ciao ciao